Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Si sono aggravate le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro, detenuto al 41 bis nel supercarcere dell'Aquila. Lo riporta a Lanza a seguito delle dichiarazioni dell'avvocato del boss. L'ex latitante, affetto da un tumore, dal giorno dell'arresto è in cura all'interno del penitenziario dove è stata allestita per lui una stanza per la chemioterapia. Nelle scorse settimane il capo mafia aveva subito un piccolo intervento per problemi urologici ed era però rientrato nell'istituto di pena in giornata. Ora il suo avvocato Alessandro Cerella parla di condizioni peggiorate e non compatibili con il carcere duro, sostenendo che Matteo Messina Denaro deve essere assistito 24 ore al giorno. Per questo Cerella a strettissimo giro presenterà istanza per il ricovero ospedaliero assieme alla collega Lorenza Guttaduro, nonché nipote di Messina Denaro. L'avvocato, che ha incontrato il boss di Cosa Nostra nel carcere dell'Aquila a fine luglio, è entrato più nel dettaglio delle condizioni di salute del suo assistito. Assume un po' d'acqua a integratori ed è molto dimagrito, spiega. I medici dell'ospedale dell'Aquila, che lo hanno preso in cura da gennaio, non lo vedono tutti i giorni e lui ha bisogno di un'assistenza giorno e notte da parte di un'infermiera. Di qui la richiesta di un trasferimento in ospedale, che potrebbe arrivare a breve.